La tua scuola ha partecipato, partecipa a qualche progetto extracurricolare? Sì, ho fatto un corso d'inglese dopo scuola. Sì, c'è stato un corso d'inglese, un corso di tedesco e un concorso per quelli che fanno parte del coro e dell'orchestra. La mia scuola ha partecipato a più progetti come il rientro d'inglese e il rientro di tedesco, ma anche concorsi per coro e dell'orchestra che sono stati diretti da il professor Rossi, il professore di musica. Sì, però io non ho partecipato. In cosa consisteva? È un corso d'inglese per... Per aiutarti in un futuro a sapere meglio l'inglese. Com'è stata l'esperienza in generale? Era difficile, però la professoressa era molto brava ad insegnare. Io non sono potuta andare perché avevo un altro impegno, però da quello che hanno letto è stato divertente. A quale altra iniziativa ti piacerebbe partecipare in futuro? Sicuramente ritornerò alla mia scuola per fare i rientri di coro, come ho sempre fatto durante questi tre anni, e anche i rientri di teatro che si faranno. Cosa vorresti fare? Quale fra questi tre progetti ti sembra più interessante e perché? Il gemellaggio con una scuola all'estero. Un concorso tra gruppi musicali scolastici. Un'iniziativa per la salvaguardia dell'ambiente. Un concorso di musica. Sì, tra scuole diverse, così uno ha anche più possibilità di vedere una scuola, magari vede quanti talenti ha dentro. Un'iniziativa per la salvaguardia dell'ambiente.